Mi chiamo Gabriella, arrivo da Cagliari. Eh beh, trascuratezza, trascuratezza e anche lavori fatti male da parte di certi dentisti, ecco, italiani. È come se mi fossi trovata in famiglia, molto gentili, molto generosi, affabili e educati. Beh, il mio contatto è stato facile. Dopo una lunga ricerca su internet, ho fatto anche varie interviste con altre cliniche, poi ho saputo che c'era un mio compaesano, che era il titolare di una bella clinica a Chisinau, e così vi ho contattato. Beh, diciamo che per come erano nella mia bocca è avvenuto un miracolo, perché ero praticamente senza molari, i denti davanti erano rotti, non masticavo bene, solo con i denti davanti. E quindi era compromesso tutto, e soprattutto la masticazione. Mi sembra che abbiano fatto il lavoro che desideravo, e quindi sì, sono abbastanza molto contenta, diciamo. Che ricordo si porta della Madaglia? Beh, ricordo che è una regione bellissima, gente decorosa, gente piena di dignità. Beh, sicuramente, sia da un punto di vista economico, che da un punto di vista... ...ma tutti... ...un punto di vista pratico. ...e soprattutto per solidarietà da parte dei medici, che sono bravissimi. ...dolnastico. Grazie.